ci sentiamo a nostro agio per questa sera comunque abbiamo lavorato molto per arrivare fino a qui quindi sì chiaramente c'è un po di tensione per i preparativi ma siamo assolutamente felici di essere qua e non ci aspettavamo nel giro di pochi mesi di riuscire a passare da da un palco diciamo come quello in cui abbiamo suonato a marzo a oggi a Sherwood in così poco tempo abbiamo avuto la fortuna di trovare qualcuno che ci ha ascoltato subito e ha creduto nel gruppo diciamo anche pur non avendo fatto chissà quanti live anzi dopo subito dopo il primo concerto siamo stati contattati dal direttore artistico del Miami che che ci ha proposto di suonare e avevamo sì pochissimi ascolti pochissimi ascoltatori mensili e nonostante questo appunto non ha guardato cifre o cose di questo genere si è basato su su dei video che aveva visto tra l'altro il concerto non non era nemmeno presente quindi da questo punto di vista è stato stato sì positivo e bello vedere un riscontro del genere abbiamo ci siamo conosciuti all'asilo anzi alla materna l'asilo è prima no della materna alla materna e ci odiavamo poi abbiamo fatto amicizia alle elementari abbiamo fondato un primo gruppo a distanza di a poco e in quel momento e da lì abbiamo iniziato appunto a suonare a fare cose assieme poi ognuno è andato un po per la sua strada riccardo chitarrista dell'universal sex arena simone produttore anche lui al tantissime altre band tantissimi progetti io sono partito sono andato a vivere sono tornato in belgio dalla mia famiglia a bruxelles ho deciso di e il covid ci sono riportati tutti nel nostro paesino ecco e da lì in un modo o nell'altro abbiamo ricominciato a collaborare questo è questa è la storia in breve beh nel nostro caso è stato fondamentale perché i primi a credere nel 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 nostro gruppo nel progetto come va come come viene definito oggi un gruppo sono stati appunto amici musicisti in particolare nicola stefanato il cantante dell'universal che ci ha proposto di di aprire appunto all'universal per il per la prima data e questa questa rete diciamo di gruppi attorno a padova ci ha permesso ecco di muoverci abbastanza facilmente senza un vero e proprio sostegno manageriale dietro non abbiamo che non abbiamo di fatto ancora ecco quindi molto importante direi a padova ci sono stati appunto 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 a padova ci sono stati appunto